Alex e Soleil, perché io e Giulia ne stiamo parlando oggi, ho detto Giulia, secondo me qualcosa succederà più avanti, non so se sicuramente è sposato Alex Belli, quindi non voglio, cioè non voglio pensare che faccia chissà cosa, però secondo me dal punto di vista platonico si sta sviluppando il rapporto. Alex ci spera secondo me, Alex ci spera, però secondo me la parte Soleil non c'è niente, Alex ci spera perché ha capito che Soleil è un personaggio molto forte. Secondo me è tanto marketing, tanto tanto marketing ragazzi, tanto tanto marketing, allora ragazzi ci sono tutti i video basi dove lui se la magna con gli occhi, entrambi giochicchiano molto, giocano tutti e due, si stuzzicano eccetera. Ti piace giocare? Secondo me un po' di attrazione da parte più Alex sicuro c'è, quindi a prescindere dalla strategia o meno, però è sposato, mi auguro. Sì, programmata, non vera, programmata come siamo qua, perché lui è molto bravo a fare l'attore, quindi non ti preoccupare che condividi veramente. Si fa fatica a credere nelle emozioni di Alex, ma lo sai. Ma io ho bisogno di voi in casa, cioè io ho bisogno che la gente in casa anche inizia a parlare di queste cose, che ti smuove un po' la situazione. Ma io l'ho detto anche di persone, gli ho detto guarda se sei davvero così, complimenti perché sei imbarazzante, calcoli tutto, sei davvero bravo. Ma l'ho detto in senso proprio ammirevole, perché Alex è davvero uno stratega eccezionale. Appare in tutte le cose. Quindi si fa fatica un po' a credere ai sentimenti, soprattutto all'interno della casa. Poi per carità siamo umani, tutti possiamo prendere delle cotte, possiamo essere presi, soprattutto nel contesto come la casa, dove le sensazioni, le emozioni sono amplificate, per carità. Però un uomo sposato, che lui mi ha confessato che ama e che ci viene a Delia e tutto il resto. Io quello non lo capisco. Quindi livello recitazione. Manco io. Brava, gallia mia, brava. Io quello non lo capisco, cioè quella è l'unica cosa che davvero... Ma adesso avete capito che Soleil, infatti come ho detto fate caso che prima era attaccato molto a Aldo, a Manuel, ultimamente voi li vedete mai con Manuel e Aldo. Lo vedete sempre con Soleil e Davide, che ha capito che il gruppo di Soleil è molto forte a Televoto e tutto quanto. Poi c'è anche questo gioco... Si è legato tantissimo a loro, capite che cosa vuoi dire? Poi c'è anche... E' molto furbo Alex.